Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi abbiamo Rossella Cinque qui in studio con noi. Ciao a tutti. Che abbiamo già invitato in passato, ma volentieri la facciamo tornare su questo canale. È un piacere essere al tuo fianco maestro. Grazie, piacere mio. Oggi siamo ancora qua nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoporte. La canzone di oggi? Sarà quella di Lorena D'Aperte e la Luna Busso. Cantare in Libertà Bene ragazzi, questa canzone si compone all'inizio di quattro accordi. Il primo accordo è Do diesis minore. Quindi dove ci sono i due tasti neri? Questo è il Do, Do diesis, Mi, Sol diesis, forma il Do diesis minore. Poi ci sarà il Fa diesis minore. Quindi andando indietro, questo sarà l'altro Do. Fa diesis, Dore mi fa. E le note saranno Fa diesis, La, Do diesis. Poi ci sono due accordi che saranno accordi di passaggio, però li suoniamo, che sono La maggiore, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Do diesis. Mi, La maggiore e Si maggiore, quindi accanto, Si, Re diesis, Fa diesis, forma il Si maggiore. E la canzone farà così. E la luna bussò alle porte del buio Fammi entrare, lui rispose di no E la luna bussò dove c'era il silenzio Ma una voce sbagliata disse non è più tempo Quindi spalla ancora le finestre del vento e se ne andò Ok, fino a qua la canzone si ripete sempre uguale Quindi avete visto quattro volte Do diesis minore Due volte Fa diesis E poi una battuta per ogni accordo per il La maggiore e il Si maggiore Che sono degli accordi, diciamo, di passaggio Poi aggiungeremo un accordo che è il Sol diesis minore Quindi tornando al Do, Re, Mi, Fa, Sol Questo è il Sol diesis, la nota Si, Re diesis Sarà il Sol diesis minore Poi metterà ancora Fa diesis minore Ancora l'accordo di La, troveremo l'accordo di Si maggiore Vi faccio vedere l'ordine giusto qual è A cercare un po' più in La, qualche cosa da fare E si ritorna al Do diesis e al giro uguale a quello dell'inizio Poi nel ritornello si aggiunge un altro accordo che sarà il Mi maggiore Quindi questo è Do, Re, Mi Mi, Sol diesis, Si Formerà il Mi maggiore E poi troveremo Si maggiore, La maggiore e Sol diesis minore Che già abbiamo incontrato in precedenza E fa così Bene, il ritornello farà sempre questi accordi Che poi la conclusione avrà sempre sul Do diesis minore E poi gli accordi si ripetono sempre più o meno nello stesso modo Bene, come abbiamo visto anche questa era una canzone molto semplice da suonare nel pianoforte Io ringrazio ancora Rossella Cinque Grazie a te maestro Per averci dato una mano in questa avventura E vi lascio in descrizione come sempre Il link su dove trovare il testo con gli accordi E poi altri due link di puntate che sono presenti su questo canale Per imparare proprio gli accordi al pianoforte Che dire Grazie Rossella A presto A presto, ciao